Ciao a tutti! In questo video voglio parlare di un sogno strano che avevo fatto un po' anni fa. Il sogno è un sogno strano dove per la prima volta vedo il mio doppelganger, qualcuno come me, stesso come me. Quindi il sogno è come questo. Stavo a casa. Guardo la finestra e vedo nella strada persone andando. Mi sembra che stanno protestando per qualcosa. Decido di lasciare la casa. Andando per la strada. Quando sto per la strada, guardo le persone e vedo qualcuno come me. Ecco. Col malfevo! Dovente accesso,MM, come me D中agliate, L'unico � soprattutto, L'unico bicelli. L'unico blu. Lant colocato e le stelle stelle come me ho una foto per mostrare questa è una foto per mostrare questo ragazzo come me con le stelle stelle i pantaloni, i stelle, i capelli i capelli, i capelli, i capelli i capelli, i capelli, i capelli impressionante quindi questo ragazzo è il mio doppelganger il stesso di me in tutto guardiamo a tutti i due di noi sono lasciati con un'opera con un'opera sorprendente quindi vediamo questo ragazzo il doppelganger è come me e ho una face che non ho una cosa ho un'opera e sono sorprendente e questo ragazzo che è la stessa cosa è la stessa quando ha visto me ha no con un'opera con un'opera sorprendente e questo è il mio sogno che ho fatto questo è il mio sogno dove ho visto questo ragazzo come me è la prima volta che ho fatto un sogno come questo e è interessante per me perché quando ho fatto questo sogno ho scritto questi sogno sull'opera in un'opera in un'opera del volete know più sull'opera doppelganger puoi vedere su wikipedia In wikipedia puoi trovare questa pagina, Doppelganger, è un biologico che si rilassano almeno, o doppio, di una personale vivente. E puoi leggere questa pagina se vuoi sapere più su Doppelganger. Mi piace questa pinta di Dante Gabriele Rossetti, come si rilassano loro. Questo è un buon esempio per raccontare le cose Doppelganger. La pinta è molto buona, mi piace molto. Ci vedono questi due ragazzi e il Doppelganger. E si vedono gli altri e sono sorpresi perché si vedono qualcuno lo stesso. Doppelganger. Molto buona pinta. Mi piace molto questo pinta. C'è un'altra foto qui di Doppelganger. Perché lo puoi trovare in videogame, in film, in storie e altre cose. Questo è un film che mostra questo ragazzo che si vede il Doppelganger. Un film vecchio. Questo è un altro esempio. Per esempio. E se ti piace, come me, tutte queste cose, puoi guardare un'altra foto su Multiverse. Vedete, mi piace l'Università, l'uomo, tutte queste cose. e il Multiverse è interessante. Perché è come se ci sono molti universi. E puoi trovare altri planeti. e persone che sono come noi. o persone che sono uguali come noi. Quindi, se siete interessati, guardate questa pagina di wikipedia. Multiverse. Doppelganger. Here... eh... There are many things. You can take a look. Shape shifting. I like this paint. The Frog becomes a princess. quindi doppelganger quindi non ho altre cose a dire e